Cagliari-Empoli 0-0, una partita insomma non molto soddisfacente, secondo la mia opinione quella di oggi, 30 dicembre 2023. Nel Cagliari infatti neanche l'Empoli riescono a fare un gol. Più passaggio di palla c'è l'Empoli rispetto al Cagliari, più passaggi li fa l'Empoli e una previsione di passaggio un po' più elevata dell'Empoli rispetto al Cagliari. Sta di fatto che il risultato finale è un mero 0-0, quindi un pariscio, diciamo così, va bene? Comunque da apprezzare l'impegno di entrambi, comunque è stata una partita mi avviso abbastanza equilibrata, sebbene ripeto L'Empoli a livello statistico abbia giocato lievemente meglio rispetto al Cagliari. Cagliari che ha giocato, vi ricordo, in casa, quindi in Sardegna. L'Empoli invece ha giocato fuori casa. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, vi raccomando iscrivetevi al canale e commentate. Ciao a tutti e una buona serata a voi e ovviamente per chi ci vuole e auguri di buon ultimo dell'anno.